... Vi presento il film di questa sera, che è stato un po' il colpo al cuore per tutti i critici e gli spettatori che erano alla terminale di quest'anno, è un positivo intendo, cioè e finché vi è piaciuto di più, sicuramente ai critici e per qualche misterioso motivo che vabbè, però si sa che i festival e le giurie seguono dei percorsi bizzarri, questo come tutti, e non ha vinto. God exists, her name is Petrunia, ed è la storia, vi dico solo come parte, ha una patetta folgorante, di una signora, una ragazzona macedone, molto intelligente, laureata in storia, che naturalmente fa un lavoro che non è assolutamente all'altezza delle sue capacità, che si butta in un fiume per acchiappare una croce che il Pop è appena gettato in acqua, in un rito propiziatorio che compie una volta all'anno e che però è destinato ai maschi del paese sostanzialmente. E ovviamente Petrunia è quella che prende la croce e da qui comincia, e cominciano tutta una serie di problemi perché è assolutamente inaudito che sia una donna, una ragazza, a vincere questo rito religioso. Il tono è in parte quello della commedia. Allora, per prima cosa, Petrunia, intitolato Dio e donna e si chiama Petrunia, uscirà anche in Italia, uscirà il 12 dicembre per Teodora. E per seconda cosa voglio presentarvi la regista che ha fatto quattro film precedenti a Petrunia. Petrunia si è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso, probabilmente lo sapete già, di dedicarle la personale completa e i quattro film precedenti sono qui al festival e potete vederli nei giorni prossimi se li avete già visti. Regista e produttrice e sceneggiatrice Teona Struga-Mutevska. Grazie. 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 Thank you for this opportunity. It's been 27 years since Macedonian film ha stato distribuito in cinemas all'interno dell'Italia, non so se ricordatevi di prima il regno, quindi 27 anni dopo potete vedere un nuovo film mazedonico, inoltre cambiiamo il nome. Io ho un piccolo gioco per dirvi, che mi ha scoperto il taxi oggi, beh, si va così. Last night Petronia was awarded the Arab Critics Award, this is the truth, and in Berlinale we got the Eukomenic Award, so now that the Christian world and the Arab world agree on something, we can safely assume that God indeed is a woman. Questa è una battuta che abbiamo fatto in taxi proprio ieri sera, questo film ha vinto il premio della critica del mondo arabo, ha vinto il premio ecumenico alla Berlinale e quindi a questo punto possiamo assumere, visto che abbiamo messo d'accordo sia il mondo arabo che il mondo occidentale cristiano, che a quel punto veramente Dio, è una donna. Thank you, Manuela, for giving me this opportunity, for screening all of my films, it's a great honor, you're a very courageous woman, and enjoy the film, thank you. Grazie, Manuela, per aver invitato tutti i miei film qui al Torino Film Festival, è un grande onore, è una grande opportunità, sia una donna coraggiosa, grazie e vi auguro buona visione. Buon divertimento, vedete anche gli altri film di Teona e se non sbaglio sabato ci sarà un incontro stampa di Teona, stampa e anche pubblico e potrete chiederle quello che vorrei dire. Grazie e buon divertimento. Grazie. 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 Grazie.